Il corso Problem Solving e Decision Making ti aiuta a sviluppare la capacità di esplorare nuove alternative e prendere decisioni più consapevoli. Superando le convinzioni limitanti e riconoscendo i meccanismi che distorcono il pensiero, impari a identificare il vero problema e a gestire con efficacia le trappole emotive e cognitive. L'obiettivo è aumentare la fiducia in te stesso, migliorare la consapevolezza delle tue scelte e padroneggiare un processo decisionale professionale, ampliando così le possibilità di azione e il potere di scelta. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.